Buongiorno, iniziata! Abbiamo formato questo prodotto che si chiama Osiata! Oh, Ustè! Si! Oh, si, tutto il tipo! Mi salva! Si, basta! Oh, Ustè! Non ho incontrato il peggio nel quattro spagnolo! Non lo incontro mai! Non lo incontro mai! Oh, basta! Sì, abbiamo, Ustè! Dai! Io ti ho chiamato il nostro! Non ho scuro da fare. Oh, mi non miro il caso, perché mi sono stato un buoncuo superfascio. Sono io, mociata! Allora, cosa stanno? Mi chavo! Mi è apporto! Sono stato molto bello! Ehi! Ehi, perfetto! Ello il tuo aiuto, il mio figlio del pelo, è su amore di chatta, il mio figlio del pelo che ha lasciato il modo che quando un tercolo il pana mi prende il distinto come e si non so è come sempre quando uno gli è pil Governo スp Chingelo presente Sì! 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 Them used to jokes Nothing! I thought it'd be hard! Tell them that he would be bad! I, before they metoon Mox 날 had the first one then I thought the other Glenn had a feeling totally ruined. Seuls are coming in next men and could not be played choices, 捨't can only go scores, kick the golf ball and than the Schepper! So what he лес used to be for- And the women! But since I had a lot of How to see Mox now, maybe my life has tutto changed with people! e poi mi prende e che non lo deixo e ora metodo l'estetato sport e mi va a vire nel sport e anche con la chica e poi mi ha detto il mio come lo haces? io gli dico shhh è il mio segreto un'evento 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 che è un'evento che abbiamo una comunicazione via Skype con Walter Maciada è il'evento di questo prodotto bir module come sta altre? commentaessa? Hola vo come huis no interessano le farei una votata tutta una vuoi e un'evento Sì... No, non ti preoccupi! No, non ti preoccupi! No, non ti preoccupi! No, non ti preoccupi! Walter! Oh, si! Che buono che ha venuto! Vamos a provare in vivo e in directo a Mociana Va a sapere che realmente funziona e puoi produrre lo che vuoi! Perfecto Walter! Te prendo mi perro! Pesame! Primero, vamos a con la Mociana! Si! Si, dime! Cuando tu dices Cuando tu dices que lo toman Yo me acuerdo con que mano debería tomar los dientes de izquierda La pregunta para toda ¿Como sabes que no me ha pasado para toda la? No, 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 es muy valida! La verdad es que ya no lo toman con la izquierda pero porque yo soy surdo No! Ya no te lo puedo tomar de veces! ¡Wooow! ¡Con la mano! Con la mano O che vanno a girare il pedo? O che fa' che parte del cervello? E ascoltando. Sì. Quando diciamo che agarra il pedo e non ho comerci, io stasera chdess per il pesco cosa del cervello dev'arrbe sarà? Poi? Ok. Quindi? E' così? Sì, io ho chavo, io ho chavo, io ho chavo, io ho chavo, dovrebbe passare sempre la serra, sopra il piede, però non il lago, il lago no! Sì, il lago suolo il palco, però guarda, guarda, guarda le due mani! Vam, guarda, vamo! Vam, guarda, guarda! Vam, guarda, guarda! Vam, guarda, guarda! Oh, guarda, guarda! Ocho, io me preguntova sempre che mi ricordava eh, sì, spero sufre algun tipo del da, o per hai untuk istorgerada inoltre? Escucha, escucha, escucha si c'està la pregunta! Sì, sì, molto curiosa, la vita è inoltre sesso, alli isters抜ive. Gioi il proprio che con la fe, Monseado! Ora si, ora si, questo si chiama Shale per la rega di rilevito che si chiama Berlizetta ... ... ... ... ... Hai la chi non ti deve 채 me spesso di un dios CHO! Hai la chi non ti deve rispondere il mercato che ce non ti deve fare il giugno il dinero e il fitness CHO! Hai la chi anche che che a uno di chi CHO! CHO! E' il mondo è il mondo, perché è il mondo nuovo è meraviglioso CHO! CHO! MENCETA! Paraguagano, 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 paraguagano. Paraguagano le vengono e li peri lo soffio risceto, vi paraguagano che non amano la campagna, le vengono a unifico di tutti i muscoli da moltoooo, rada e rosso di una sola vez. Paraguagano contenere neutro che avanti di un corpo schismato, certo la catà d'unismo di più e di varie. Quindi che ora, potesse lavorare a molti gruppi muscoli dalle dei colletti, come adobina come adobina, o anche poter lavorare di bicelli o anche poter lavorare di bicelli e anche poter lavorare in strada del vasodio Eeeeeeeeeeeeeeeeee perché hanno bisogno di una persona che lo può utilizzare e poter utilizzare la bicelli e lavorare tutti i muscoli A la prima cosa? E anche poter lavorare in strada Aaaaaaaa Oh, oh oh, oh oh! Siamo che i vostri insieme ecstino che il servire è tutto! È tutto funzionante! Mi piace! Ma sai che? Puoi lavorare a casa e poter a fiorare tutte le attività che ho potuto fare. Oh, per favore! Alla cosa? Vamos a vedere com' vai fare il 4000 litro. È tutto 130 litro. Oh, funziona! è un'estitza si che vieno ahhh è un'estitza è un'estitza è un'estitza siii è però funziona siii stavo matando è meraviglioso il prodotto funziona matate a un asiento però mi scena funziona è un'estitza è un'estitza siii i 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